Nuovo anno scolastico, criticità vecchie. Inizia per molti studenti una nuova avventura, la CGL però denuncia le criticità a 360 gradi che riguardano il mondo della scuola. Sì, purtroppo sì, perché quest'anno non solo abbiamo le difficoltà che si registrano ogni inizio anno scolastico e che non dovrebbero comunque registrarsi. Penso per esempio all'Istituto Alberghiero che si trova a nove aule in meno e quindi bisognerà capire se si faranno turnazioni, se si recuperano le aule. Quindi questo è solo uno degli esempi di quelli che sono i problemi endemici della scuola. Ma a quest'anno si aggiungono altre difficoltà dovute a condizionamenti esterni. E pensiamo alla crisi del CSTP, per cui il previsto taglio delle corse degli autobus ovviamente si ripercuterà sulla popolazione scolastica in maniera pesante. E ancora poi c'è un altro problema. L'avvertenza della Reiki Multiservice che prevede alla manutenzione degli istituti scolastici della provincia crea un altro problema aggiuntivo perché le nostre scuole hanno non solo difficoltà gestionali interne ma alcuni istituti versano in condizioni già complicate proprio esternamente. Ci sarebbe bisogno di interventi strutturali su alcuni di questi. Ovviamente se questo lo mettiamo già con la mancanza di aule e di altri rischiamo di confrontarci con dei dati, con delle situazioni che mettono a rischio la preparazione dei nostri figli ma dall'altra parte anche rischiano la salute rispetto ad alcuni incidenti che potrebbero esserci nel caso in cui non ci sono le corrette manutenzioni degli istituti. ...discutere di quelle che sono le criticità legate all'inizio centi nel corso di quest'anno scolastico e quindi ne ragioneremo con la FIOM CGR rappresentata da Francesca Delia con i trasporti e quindi la FIOM, sappiamo tutte le difficoltà legate al trasporto pubblico e con noi c'è Medio D'Alessio e ci sta per raggiungere per problemi di tempo.